non ci sono posso entrare vuoi sposarmi? ci si sposa si vive insieme ed è la fine si guarda sempre nella stessa direzione si fissa sempre la stessa cosa le conversazioni durano quanto gli intervalli pubblicitari in tv e un giorno ti svegli ti guardi allo specchio e ti chiedi che fine ha fatto la tua vita sicuro che vada così nessuna speranza molto poca la pagina impone una struttura innaturale al flusso di coscienza solo che la carta da telex non la fanno più l'ho cercata dappertutto fa vedere la mano tu hai una profonda consapevolezza del tuo personaggio non hai fiducia in te stesso però dagli altri la pretendi proietti le tue insicurezze su coloro che ti circondano rifiuti la felicità perché la ritieni scialpa e superficiale ti sei convertito al postmodernismo per evitare un pensiero tuo originale critichi te stesso perché così cerchi di vanificare le critiche desideri ciò che odi e odi ciò che desideri devi sempre distruggere ciò che ami di più ci vedi tutta questa roba ormai niente più è nuovo tutto è già stato vissuto pensi che esista la cosiddetta natura umana? pensi che potrai invitare qualche amico per una festa? non vedo perché non No, no, no. Grazie.